Poi guardavo da lì, quando ho visto le infermieri che si tiravano i capelli, perché non si sapeva da che piano era, quindi io pensavo dentro di me che sia il primo piano, quando poi la voce girava ottavo piano, dico sì, sarebbe capito che... Ha dato lei l'allarme? No, un mio amico, un mio amico, io ho aspettato che arrivasse l'ambulanza, un mio amico ha dato l'allarme, che lui passava proprio da lì, perché abita da quelle parti, io stavo andando al bar, mi era appena fermato lì, e ho visto che lui era scosso chi tremava, perché si vedeva, dico cosa è successo Claudio? Due bambini sono caduti dal balcone, sono per terra, uno pensa sempre magari primo piano, mi ha detto ci sono due bimbi per terra, quindi lui ha chiamato l'ambulanza e dopo dico aspetto anch'io che arriva l'ambulanza, e niente, io ripeto non sono andato a vedere la scena. Conoscevo i bimbi? Sì, purtroppo, sul momento non sapevo chi era, poi mi hanno desiderato, sì, di vista li conosco, sì, di vista, perché ci conosciamo tutti qua, so che ne hanno cinque mi sembra, mi ricordo sua mamma che la mattina le portava sempre in fila qua, che andavano a scuola o all'asilo.